Buongiorno a tutti, allora facciamo anche quest'anno un piacere di presentarvi l'opera teatrale lingua siciliana che il gruppo teatrale istituto ha messo in scena. Quest'anno abbiamo preferito scegliere un'opera di Mirandello opportunamente di adattarla in lingua siciliana e la famosissima Giara. Non so se alcuni di voi conoscono la trama ma la capirete subito, io ve la riassumo brevissimamente anche se la avete detto, un tal Don Nolò qui nelle zone del Caterenze è una scena a greste, rurale del secolo scorso e molto preoccupato perché ha bisogno di una Giara nuova dove mettere l'olio, a quei tempi l'olio era un bene di grande valore anche e soprattutto economico, la ricchezza era proprio nei beni materiali che la terra produceva, allora si fa fare questa Giara e lui ha questo pensiero fisso della Giara, perché questa Giara si rompe e lì comincia il dramma per lui e la farsa per noi, perché vedete che sarà molto esibarante questa commedia, che vede come protagonisti, come avrete letto, alunni della scuola che nella fattispecie abbiamo un Don Nolò, impersonato da Rosario tedesco, un ex alunno ucciso l'anno scorso, lo Siddima, colui che ripara, che riparerà la Giara, Francesco Guerrera, Baripè, Simone Asciuto, Tararà, Giuseppe La Rosa, Sirico, Giuseppe Dispetano, Pazzatana, Greco e Grigitera, Carminella, Elisabetta, Guenti, Crisuzza, Garissa, Greco, Lucere, Provinzio, Loparo, L'Avvocato, Scimè, Alen, Strazzeri, Mulattiere, Gabriele, Bazzano e quello che volevo dire, potete ringraziare la nostra Preside per essere qui con noi e ha recitato l'onore e il piacere di partecipare a questa iniziativa, anche noi con tanti sforzi per il Senato e ringrazio molto a questi ragazzi che ci sono dedicati nei ultimi mesi con grande assiduità e credendo in questo progetto sono dedicati a questa attività, non sono attori professionisti ma sono stati molto bravi e quindi vi prego di spegnere i cettulari, di fare silenzio e applaudire se vi andrà quando credete che sia il caso. A questo punto io vi auguro un buon divertimento, ci vediamo alla fine dello spettacolo per presentare i ragazzi, quindi apriamo e si parla. Applausi Adesso, ma senza vuoi, e tu come ieri provi attendo un po' a me, ma per me ne starete a spessare in passare, tutti più ieri, la 對不對, stude, perdere la la scala di la bar e una bambina di buon Potticchioni! Ma com'è che hanno finito accogli? Carichi mi dai buttati qua e mi dai semina che sta lasciando Ma che ricordi? Siete un poco cavolino? Ma che vuoi vincinare solo a bestimmiare? Ci vuole mica da questa campagna? Magari i lavori accominciano a bestimmiare E come si riesce? Pratico non sto parlando sull'aria Ma sicur' non lo faccio, e chi mi dai qua, e chi mi va Avanti, forza! Ricci di nero! Ma manchia torni di sopra la marcia! Ah, e chi va visto a fare seminari alle mie scatacchata? Fatta per io per me andare a manuro nei seminatati Se il dono lo s'affacciava, e t'ileva pari evi Invece buttati tra evi devono A oggi t'ileva schifio, e come al solito S'apichiava con me Per i capri mie, guaccioni Pudissi stare affacciato la maniera in ginasia Tra quanta pausa c'è mai che ho messo da vendi Un po' po' ma dai sopra su lì davanti Sì, ciao, ma come facevo tu voi? Andando un po' la nostra lavoria Sembra una rivestata strada Oh, e chi è? E non ti può manco cantare ora? Ah, un po' camionetta! Che mi fai? Cavo sopra la risulta Ficciano una bella scommessa A cui vanno fare i scenericchi Che sei fatti da paraliso Io ancora Non mi faccio mi scusa Comunque mi fuggere In accastanza questa casa Con tutta la sua campagna E' buona E' finevole L'ingucodefici Più tosto Io ti ti fanno scaricare E' tecnica Venti Ti senti da togliere? E' vecchia Che volete fare Mezzaronnata oggi Siete già stanchi? Vedete come ora C'è il russo Se vuono fare Non ce lo viaggi Forza Capivalenti Sì A scattare C'era bene E quando ne va con te Anzi a fare in quattro E' un dato Non mezza Avete che c'è paura Magari voi C'è la posta E' dire che la posta Non l'ha caputa Domani Devono impaccattare Se vogliono E soprattutto le notizie A stasemana Sotti Non c'è n'è più il murdo Sotti Sotti Non c'è n'è più il murdo Sì Sì A scattare Oh Parisa Non senti di stupere? Jo No O No Ma Isn't The E Oh Ov To Florico Oh, ma c'è spetta qui davvero, non mi nega me. A te Mario, fermo, che perio io? No, 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 non mi fai. Ma com'è, non mi cerca, non mi vuoi. Vieni, pari tesi, moglio, venissi un attimo fuori. Vieni, aspetta, non mi sento. Eh. Vai, vieni, che fai di? E io che so' che arrivò, non mi chiam' uno. Chi, chi mulì, a scura, io mi so' a ruar. Eh, a primi notura so' arrivato. A primi notura così, sicuro? Eh, voce, ho un giorno. Ma andò, ma mi nizano spieghiare così tanto, non mi chiam' uno. E che ne faccio? Ma così da faccio, ah. Ma, voce, non ti preoccupi, vieni lì. Ci vetti, io, a fare scaricare e a metterlo fu meno su vostro. Ma che non mi preoccupi, c'è chiesto di tu, c'è chiesto di io, no? Sceppo! Ma, ma come fai tu? Nel suo momento io non ci posso raricurare il punto, vi chiam' non ci ho discusso un bintu con l'avvocato, come fai? Si va, è giuntato. Ma di chi? Da c'era no, non è l'orto. Preso di sceppo, ma come devi metti, ah. Chiedi, soppiglianti, cosa sta capurato? E che cerca, va? Eh, scusati. Eh, pariù, vuole parire. Ma chi vuole venire tu? Sceppo! Tu, nantini, nenni. Ma guarda chi cerca, va? Ma poi com'è? Tanti tassi proprio dal giallo, diventare una roba, ascoltare i discursi? Capullo! Che fa scherzo? Eh, cacciare i tempi, ah. Cacciare i tuoi sentimenti. Cacciare a noi, chissà, tanti, bambini. E sposta tutti gli pericoli. Focciarsi, come esci. Alluarsi, che l'amore di più prima che si ronghi. Oh, no! Te l'hai detto, no! Te l'hai detto, c'è il tuo volo. Io ti chiedo. Se io lo faccio, io lo comando io. E basta. E va bene. Comunque ci fossi. Fossi, io lo faccio io. Ma... Lo sapete com'è? Con tutto il suo lavaggio, il maschio del pibri, mi s'aggarda. E' la botta. Ah, con tutto il suo lavaggio del maschio del pibri, ma mi interessa. Sta a stare, da, a stare, da. Punto. E basta. E va bene. Ma secondo te, poi, un'altra cosa mi sta a mettere, avanti. Dopo a metto, io non ci levo tutti i venti e non ci posso a mettere. Io non ci posso a mettere. Io non ci posso a mettere. Mi mando. Rimini lo tu mi sta a mettere. E va, rimini. Ma faccio, va bene. Come ti dico così. Qui mi sta a scorda via. Fammi terminare il suo subito con l'avvocato, così ti pare più caro. Va bene. Ciao. Buonasera, tololo. Tololo! Tololo! Vai che fai? Non si è a chieno. Oh, oh, oh. E' un caccio in me and' alus. E' un caccio in me and' allus. Ca' s'ammeria, dai lași, la romperi dupo udo. Da' te ande dormuni. Che po' is... Mi spai ringa ropumeno il mio l'asco. Ma che te vede tutta ora o in ora. O mai e da' un cilivaro... E' un cilivaro e qui t'alto... E' un cilivaro... E' un cilivaro. E' un cilivaro, c'uva d'un capo. Mi vato io a scendere il cheque. E' un cilivaro e... E' un cilivaro. E' un cilivaro. ... se vengono pronti li chiuno qui non ci vuoi imparare io caro mio che vuoi io ti vuoi c'è chissu usai chi è chissu? che ti vuoi? non c'è chissu non c'è chissu non c'è chissu 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 io unici anni scritti li li cacciano a dare sotto scelgo uno e scelgo due ma che dici? chissu è un codice civile t'amore su me affogato civile? civile e giù ne sono fuori a me questa volta la chiam capisci la pezzo di scelgo ah? caro c'è spiegato uno di tutto caso che caso di oggi in poi quando l'ho girato non l'ho butti più il nodo ma non lo faccio vedere ma io mi ha toccato non vado tanto ma che ti fa l'altia? vada lì 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 dica, dica chi è che può fare? avvocato avvocato l'avvocato buonasera forzo forza forza vi spiegarsi vedi sei qui mi ira vedi le banque vedi il bel piano e allora che ti vedi? vi abbiamo questo vedi un bel gesto ci vedi un quattro e ci vota l'avvocato Non ciò vuole capire, signor Avvocato, ma sei il mio limone, se le ho moccate qua. E se me le mone, me le ho moccate. Ma che sta tenuto per il suo discepolo, ah? Signor Avvocato, sto pezzo da nevare il pacchino. Invece da domandare mi scusa. Vieni a buttare, vai, non ti facciamo a storia. A storia? A storia! A storia! A storia! A storia! A storia! A storia! Ah, a storia! Chi è fatto? Mi minazzavo di lasciare a Reromuro. A Reromuro? A Reromuro? A Reromuro! A Reromuro! A Reromuro! Ah, a Reromuro! Mi sta affumando, ma adesso non mi sta affumando. Tu, a fare, che togateremo io, e va! Ma ma chi pretenete? Ma io... Ma tu, chi è, ah? Sì, te... Io, dai! Mi scariciamo, come siete! Munchezza per munchezza! Chi è in giro, ah? Ah, se allora, visto come i parati, posso, a morire? Tutti va, e pittano va. La morire! E sentia! Mi ha un po' vado, sto pezzo da nevare il pacchino, se ci occupate, ah! Ma voi dica nè... Ma cosa stava? Che è qui fa un minuto? Non s bine se la fumo la trupa del criciamo io, il c'è questa notte che sono un monte, a pritore del c'è, che ci si sono un nome che non vede con nè... Beh, c'è come ho sconto, ma sta tamo loato, la volare a caminìa. Inizio a caminìa. E' una boga suda sta po' lei. He zi che fa... Si mette suodata la bifréu, zate... Nacce bene un frisco suodata. Vai né un' lì manzale alchee, e c'andina ho insuzzante, zate. Sì. Arrivederci, signor Romano. Scegli! Quando mi vuole buttare? A dodici mi richiesto! E a dodici mi buttare? Avanti, a morire, avanti! Via, via! Non ce la faccio più! Non me lo oro a caromani, non me lo oro! Guarda, che sta facendo furia la testa! Con un dolpetto, vero? Eh sì, con un dolpetto! Non do una pace a nulla! A te, ossia, con il dolipicino calciresi, mi ha dato una volta! Una volta che mi viene con serietà, gridava, se la devi la mura, mi renda l'avvocato! Sicuro? E' veniva a giumpere l'anima mia! Ora, invece, qua non c'è mai problema, vedi e sei smeruto che tu stai studiando, Allora, appena vengo a sapere che va a passare un periodo di raposo in campagna, si è misa a camorriere e ci ha fatto accettare la nostra parola. Signor avvocato, non c'è mai problema! Sì! Ma, non c'è mai problema! E invece qui? E' una cinguronna! Cinguronna che non fai a cucire a panare ma l'assaggiare! Ma che ne s'aggira, c'è? Chi è messa a puntare a me l'assaggiare? Signor avvocato, io c'è una macchia più lunga! E sì! Ah, mi ricca, va buttando di San Stefano di Camanto! E sì! E' un po' di me, signor avvocato! Non lo ho punta! E' un po' di me! E' un po' di me! Ma camanda! Alessia, a fare una macchia patissa! Signor avvocato, ma ci c'è da panne, la caccia pazzate! Ma no, non c'è proprio! Tu sei buono! Lasci stare, non c'è bisogno! Mi dici una cosa, signor avvocato? C'è te la dire! Ma pittato! e sicuramente che in causa fa la salurità e come no? al pittatello? eh sì, ricetta ci ha ricevuto il passaggio e il più presto la voleva più gianni più d'anni? più grande ma secondo me basta che ci posso dire? quant'avano la salurità? cinque ore e cinque giorni per non faremoci la pagana per assaggiare ma romano per nuovere la mia e nuovere la mia vabbè un po' va due vabbè ma quando è cominciato? non è capoiuso tutto il volo non tu non faccia nulla a me con un po' di cicciviri da cinesi ma a Karina il vero ma che succede? ma che succede? ma che succede? oi il cinese non li stavagliare ma loro li stavagliare ma ci rimasta lontano e che pensi? ti devi rincaio? ma si parte? oi, le risse che i canari provano a spostare ma passando a me però non ci stiamo inzzanomoro ma che l'ho fatta spostare? ma chi mi conti? non mi ricommerci di bene ma ci mi conti? ma ci mi conti? ma che caso che ora spostare non ti venga? mi fai sbagliare si, si non lo spostare non ti venga ma russi quando sono i miei contento almeno una ora tornerò a me spostare oh, schiacciamoli prima cassa di direzza ooooh vabbè vabbè che dolore vabbè che c'è c'è cà mi diceva oh, come vai che è? già mi sono rispondolata ma che ti interessa che arriva a giustare che si mi muore che ci sono i miei scolatori ma ci mi ricommerci ma che mi ricommerci ragazza? oh, ma che mi sa? ma che mi sta dubbando? ah, ma andiamo a spettare così che mani lo facciamo che tu vabbè e tu vabbè oh, allora hai da scattare il mio magazzino? ah, e che ti va la tia? vabbè se non mi ricommerci io ricordo mi scordo vabbè oh, vabbè 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 allora se mi ti faci mandare qualche punto vabbè 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 Avarì Avarì vabbè 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 allora da gioco, c'è la chissà come manare qualche rocchero. E la voliera mia, che è il gruppo di scantare che non è nata giugna ditta. Più ha i tuoi che passavano da neri, quindi non ci vanno. E che c'è il vento? Io passo neanche un bel che ha le voce. Non c'è l'è... Non c'è l'è dove l'acca. Non c'è l'è d'annaio, ma non avevo detto, perché è bello. Ma fare già uno, a chiama il dololo e ciò dici, i mascoli finero di scudulare, i primi, che hanno fatto, capisci? Perché? Eeeh, va bene, va bene. Mi c'è l'è dico. E ci dici, non c'è nemmeno, non c'è nemmeno di scudulare, non ci crimini di competitivellino adatta, capisci? Va bene, va bene. Eeeh, non c'è l'è d'u. Allora pura, vai a molti calci. Eci dici, che mascoli finendo di scudulare, noci filmini di divuta, lui, mi li adatta. Ho capisci? Va bene? Va bene. Ah, stupendo rossi. Il mondo del mondo, il mondo più vicino, ma anche di non vedi che vi sfatiamo, ma anche di essere chiudeve. Vieni, vieni, vieni. No vieni, 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 vieni. Vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. 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 Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. 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 Grazie a tutti. 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 Buone. 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 Vai. Buone. 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 Cosa? Giusto? Perciò aggiatta e no aggiatta. Benissimo, aggiatta e no, perciò c'hanno un valore tutto aggiatta. Ma che quando ti ammettano in giallo? Prima, ma due anni, se c'è la pescina. Allora, avvocata, ma vieni ragazzi, sul tono d'oro, mi ci faceva mettere il suono master, ci cominciava detto che non si è ottima. Aggiatta è tutta una nuova, o tu se non c'erano, e quindi il valore è lo stesso di quando accattava. Allora, la testa è ora, così mi si muro. Più a restare in piccato, che è in giallo? Perciò, qual è il terzo di quando accattava? Avvocato, non fecchiamo la trossaria, terzo! Signor avvocato, terzo! Terzo quando vede a dire. Signor avvocato, terzo! L'avvocato, a tutti, perciò. Non sezzentattie. Benissimo, non sezzentattie. Noi, due, 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 due. Noi, ne sono istеля, è più l'affirma, non è sempre un prognosizzo. La strigla, come reagisce da gli all'altro, ne sono ure. Non sizz'è, non è sempre un prognosizzo, non è un prognosizzo e non è un prognosizzo. Non è sempre un prognosizzo ai cambiсть, non è un prognosizzo. Il mio nascosto a lui, quest'lipto di ripona lò Quanto è il chiaro? Ha visto così, avverò갔ce a prima di essere qui. E fa le loro oppure il ciò? Capitalerù? Ma non è tirando che. Il che è il chiaro? È il nostro prato. Signò del prato è un po' più facile! Olavano da l'abbrutto, il loro safe! Come for Already! Vagia come il rimò di bari né? L'ultimisi per capo el matrimo esvacano molto i passi in là la testa dura solo dentro le olo, no buoni bari né? l'ultimisi caretano le cabi caim ti caim ti Maldano, vigiano l'uva! Amma, di me! è la chistaria, cadi Più vai che, ah a shudà, a shudà, a shudà, a shudà, a shudà, a shudà Parasse, appogà! Massa un castro, f doses mangiù a passà, non si capta cam i fenditi Romano merk gli neri, brusdi sua voglia venda A lei ci scavano! A lei ci scavano! A lei ci scavano! E fuori! E ci sono! Poi il nostro! Anzi, buonasera! 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 Ascurato! 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 E allora venne innamorate! No, non siamo niente! Ascurato! Facciamo questa pelleva tanto! Giunti, ma sappi la nuova! No, no, insieme! Meno, bella la pelleva! Fai l'agenda! Allora, si sta agendo! Facciamo questa pelleva testa! E stiamo a casa no! E stiamo a casa no! E vabbè, cantiamoci insieme! E allora, tessuta! Odigna te inserò! Odigna te inserò! E ovviamente non ci sono! E retorna! Vai ci mandare! Vai! Ascurato! 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 E guardate! Andiamo chitarra perché dobbiamo sempre nuovo! Andiamo! Ah, vai! Va bene! Andiamo! 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 Io e noi e noi e io, io ping Zuk x Canada! Sì, ho pensato a vincare! Allora! Ok! Ni! Chi! 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 Cri! Chi! E tu! Chi! Il ritorno è l'accusa, il ritorno è l'accusa. Il ritorno è l'accusa, il ritorno è l'accusa. E' l'accusa, l'accusa è l'accusa. Oh, questi dati sono i mali senza vaccini. Io ti faccio perderemo in questa sera. Ma io gli ho messo, faccio cercare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.